Con gli 8.000 ricorsi all'anno di Napoli e Salerno contro i 1.100 del Piemonte, il tardi alla campagna è quello che si trova a gestire il numero di contenziosi tra i più alti d'Italia. E' uno dei dati emersi dalla relazione del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, Vincenzo Salamone, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. La cosa positiva è che non c'è arretrato significativo, lo standard europeo è tre anni, ma massimo. Nella sua relazione il magistrato ha puntato i riflettori anche su altre problematiche giuridiche nell'ambito della pubblica amministrazione, l'aumento delle interdittive antimafia, le grandi difficoltà dei piccoli comuni e della regione nella gestione della spesa dei fondi PNRR, i rapporti tra regione e sanità privata. Si è registrato un aumento delle interdittive antimafia, è uno dei settori nei quali abbiamo avuto un incremento di contenziosi. non è che ci sia una maggiore presenza in filtrazione, c'è una maggiore efficienza del contrasto e quindi una maggiore sensibilità alla necessità che vengano recisi i rapporti, soprattutto con l'economia legale. A proposito di contenzioso, seppur seduti vicini continuano a rimanere distanti il governatore Vincenzo De Luca e il sindaco Manfredi che neanche si salutano, seduti in prima fila con il nuovo procuratore Gratteri e il procuratore generale Gialanella e le altre autorità. Tra le amministrazioni bisogna confrontarsi anche in maniera ovviamente forte, franca, però con un rapporto che eviti che poi ci sia eccessiva litigiosità. Le soluzioni che avvengono nelle aule dei tribunali non sono ovviamente in grado di tener conto delle tante sfumature che invece la politica ha la capacità nel dialogo di poter tener conto.